Le stelle di Azus Per il lavoro la luna in aspetto con Saturno vi permette di raggiungere i vostri obiettivi riportando risultati concreti e soddisfacenti. Gemelli, in mattinata sarete ancora di umore variabile, ma vi riprenderete presto. Una telefonata, un invito per la serata o per il fine settimana vi renderà felici. Cancro, Marte nel vostro segno rappresenta una svolta importantissima perché oltre a portare energie e passionalità, assicura maggiore fortuna quando dovrete combattere delle battaglie. Leone, sarà una giornata interessante in cui proverete piacere a stare in mezzo alla gente a comunicare con gli altri. Marte in cancro, vi fa sentire il desiderio di evadere. Vergine, i cambiamenti positivi si susseguono al ritmo incalzante in questo periodo magico. Mercurio e Venere portano delle svolte significative sul lavoro e in amore. Bilancia, non cercate scorciatoie se dovete risolvere problemi professionali o sentimentali. La luna vi mette addosso tante indecisione ma non potete fare a meno di agire. Scorpione, Marte vi aiuta a trovare le persone giuste con le quali collaborare e vi consente di scoprire di chi potete fidarvi. In amore vivrete belle emozioni. Sagittario, la vostra vita quotidiana viene puntualmente stravolta da imprevisti di vario genere. Non riuscite a programmare nulla e alla fine siete costretti ad improvvisare. Capricorno, inizierete il fine settimana ancora in maniera brillante. Vi sentite in forma, pronti ad affrontare ogni impegno con entusiasmo. Anche in amore sarete euforici. Acquario, attenti se dovete discutere di bene in comune con altre persone. Non è la giornata giusta per una riunione di condominio. Anche in amore siete fin troppo permalosi. Pesci, Marte in cancro porterà una ventata di passione nella vostra vita. Questo è un sabato ancora impegnativo, ma con il passare delle ore noterete dei sensibili miglioramenti. Ecco l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus.